Buonasera, buonasera da Onda Tg, in primo piano la politica, Roccarasso, qui è studiato Stupendo pranzo in alta quota per il vice premier pentastellato Luigi Di Maio che dà l'ultimo colpo in campagna elettorale. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Un viaggio dalla montagna al mare per mostrare all'Italia intera e a tutto il mondo le bellezze dell'Abruzzo e questo è il senso dell'ultimo giorno di campagna elettorale per il vice premier Luigi Di Maio che ha voluto chiudere la campagna elettorale mostrando a tutti le bellezze di una regione che domenica sarà chiamata alle urne per rieleggere il consiglio regionale. E' arrivato alle 13.30 in punto alla base della funivia della Remogna salendo sulla cabina che in pochi minuti lo ha portato agli oltre 2000 metri delle toppe del tesoro dove ha trovato ad attenderlo decine di sceatori che hanno voluto posare con lui per i selfie di rito. Conoscevo questi posti ma vedere queste valli e queste monti dal vivo con questa bella giornata di sole è una cosa davvero stupenda dopo essersi congratulato con il gestore del comprensorio scistico e staro accompagnato in un breve tour per poi consumare un pranzo all'aperto a base di prodotti tipici antipasto di formaggio e di salumi locali, cazzarielli e fagioli, polenta con le salsicce. Alla fine l'immancabile a Rosticini che hanno fatto esclamare a Di Maio sono davvero strepitosi. Alle 15.30 ha ripreso la funivia ed è sceso fino alla stazione di partenza per poi riprendere il viaggio verso Pescara poi in serata a Montesilvano per la chiusura della campagna elettorale ma prima l'appello al voto. Io dico una cosa, l'Abruzzo non è terra di scontro tra le forze politiche, gli abruzzesi domenica quando andranno a votare non dovranno giocare una partita tra questo e quella forza politica, gli abruzzesi domenica si giocano la loro sanità, se la mettono in mano a Berlusconi o a Renzi perché questi sono i candidati oggi, uno è di Berlusconi e uno è di Renzi, alla fine la sanità andrà sempre in quella direzione. I trasporti andranno sempre in quella direzione, cioè a sbattere contro la sanità privata, a sbattere contro la privatizzazione dei trasporti. Se ci eleggono Sara Marcozzi, presidente della regione, noi da lunedì siamo al lavoro per cacciare a calci dalla sanità tutti quei direttori sanitari nominati dalla politica in questi anni. Qui in questa regione c'è un'unica opportunità di cambiamento, poi sceglieranno gli abruzzesi che è Sara Marcozzi perché dall'altra c'è Salvini abbastanza imbarazzato nella conferenza stampa con Berlusconi e il candidato di Renzi che è Legnini che è uno che ha votato anche la legge Fornero quando stava in Parlamento. E dunque è stato un finale di campagna elettorale con i BIG presenti in Abruzzo fino alla fine. Salvini, vicepremier della Lega, è salito questa mattina a Rivisondoli. L'appello per l'Abruzzo e poi quella battuta sulla Francia. Sentiamo, vediamo tutto nel nostro servizio. Abbiamo stanziato tanti soldi per l'Abruzzo e per migliorare le strade dell'Abruzzo interno. L'Abruzzo è la terza regione italiana che ha avuto più finanziamenti. La sfida dell'Abruzzo è sul turismo, sia in montagna che al mare. Portare più italiani, magari più francesi, in Abruzzo. Ne parlerò con Macron per un gemellaggio tra la Francia e l'Abruzzo. Fra una battuta e una dichiarazione dell'ultimo minuto, il vicepremier della Lega, Matteo Salvini, accende il finale di una campagna elettorale già animata e chiude il tour nei centri montani dell'Abruzzo. La battuta sulla Francia diventerà subito virale, ma Salvini, come ha già fatto ieri a Bussi sul Tirino, dove era stato anche contestato con barche di carta che neggevano all'accoglienza, ha ricordato che il voto dell'Abruzzo farà parlare l'Italia e l'Europa. Gli abruzzesi. È un voto di legittima difesa per gli abruzzesi. Un voto di orgoglio, un voto di lavoro, un voto di speranza. La provincia dell'Aquila è la prima in Italia per l'adesione a quota 100 e quindi vuol dire che quello che stiamo facendo si tocca con mano. Poi c'è cambiamento e cambiamento. C'è il cambiamento della Lega che è al buon governo di tante regioni da tanti anni. Accanto al leader della Lega e coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma, con le candidate al Consiglio regionale Giulia Donatelli e Antonietta Laporta. Lasciando Revisondoli, Salvini ha promesso che tornerà in Abruzzo per godere qualche giorno di relax in uno scenario ambientale e pesaggistico incantevole. E ora la bretella ferroviaria. Uno dei tanti temi toccati in questa campagna elettorale è coordinamento dei comitati Mobast. Tre candidati rilanciano la battaglia contro l'inutilità, il nostro servizio. Sono soldi buttati privati alla collettività che potrebbero essere utilizzati per migliorare i servizi per i pendolari, studenti e lavoratori. E' quanto affermato il portavoce del coordinamento dei comitati cittadini Mobast, che questa mattina ha chiamato a raccolta i candidati al Consiglio regionale per il no alla bretella ferroviaria. In tre hanno risposto all'appello l'ex sindaco ed ex presidente della provincia Antonio De Crescentis, l'ex consigliere comunale Mimmo Di Benedetto, la candidata di avanti Abruzzo Paola Ruffo. Non uno a prescindere ma la battaglia è volta a contrastare l'inutilità dell'opera, detta ricordinamento Mobast e dei candidati che hanno sottoscritto l'impegno a mantenere alta l'attenzione sul tema anche all'indomani delle elezioni di domenica 10 febbraio. I candidati che sono venuti questa mattina hanno assunto l'impegno di proseguire insieme a noi in una battaglia che sia intanto anche una battaglia di civiltà e di efficienza, oltre che di partecipazione alle scelte che poi potrebbero avere anche ricadute nefaste sul territorio. Quindi un'azione di contrasto che continuerà anche dopo il 10 febbraio. La bretella sarà lunga 600 metri con un binario completamente elettrificato a cui saranno annessi i servizi, tra cui un parcheggio di 2700 metri quadrati e un sottopassaggio di 69 metri, ma per molti è una questione di utilità o inutilità. Intanto anche perché bisognerà necessariamente, adottando quella logica, procedere alla infrastrutturazione di quella zona, sia dal punto di vista viatico che dei collegamenti e quindi dei servizi con il rischio di sovrapporre due situazioni che rischiano di essere tra di loro anche incompatibili. Quindi diciamo che invece noi riteniamo di poter mantenere la centralità dei servizi nella stazione Smart di Sulmona e di lavorare molto sulle tecnologie, sugli orari, sulla efficienza dei servizi offerti appunto agli utenti della città e della Valle Peligna. E ora l'asse Sulmona Scanno per il rilancio turistico. Così l'ex sindaco di Anversa degli Abruzzi, candidato al Consiglio regionale con Forza Italia, Gianni Gabriele, chiude la sua campagna elettorale. La nostra intervista. Recuperare l'asse Sulmona Scanno e far tornare protagoniste la Valle Peligna e la Valle del Sagittario nello scenario del centro Abruzzo. Impegno e coerenza sono state le due parole che hanno scandito la campagna elettorale del candidato di Forza Italia, Gianni Gabriele, ex sindaco di Anversa degli Abruzzi, presidente del Coggesa, che chiude la tornata elettorale con l'appello in TV. Da ruolo recitato per la rendicondazione dei fondi per i comuni fuori cratere del postesisma. L'impegno per l'unione turistica dei centri montani, quando nel 1996 aveva creato i presupposti per unire Sulmona, città d'arte e a Scanno, città del turismo. Un discorso ripreso nel 2011 dopo l'uscita della nuova legge. Oggi rilancia la sfida forte della sua esperienza amministrativa. L'impegno, io l'ho messo nel mio slogan, l'impegno e coerenza. L'impegno perché volevo cercare di trasmettere il messaggio che chi si candida per la pubblica amministrazione, che sia essa amministrativa che politica, è una scelta che personalmente fa, quindi non viene obbligato. Ma una volta che uno lo fa e addirittura va a governare, deve intendere la politica o l'amministrazione, come una missione per gli altri e non per i propri interessi. E questo lo dimostrano la mia attività dei 40 anni di amministrazione, di cui 17 anni di sindaci e 3 di presidente della Cogesa. Coerenza, questa Conforza Italia è una candidatura di bandiera. Quanto il suo trascorso amministrativo-politico può essere un elemento di garanzia per gli elettori? Io sono stato costretto, chiamato a ricoprire questo ruolo, forse in un momento in cui Forza Italia non è ai massimi livelli, per cui è un momento che serviva forse qualche persona con la faccia pulita e quindi hanno pensato a me. Ma io mi sono messo a disposizione del partito proprio in questo momento che ne aveva bisogno. Un po' come il post-sisma per i comuni fuori cratere, che non avevano ancora preso un soldo. Come andò a finire grazie al suo impegno e alla sua benegazio? Beh, qui loro ripetono con orgoglio l'attività svolta nel comune di Ambersiagliabruzzi, che dal 3 dicembre del 2012, dopo la notizia che il Ministero non sapevano che i comuni fuori cratere avessero anche dei danni, anche consistenti, è cominciata un'attività quotidiana, ma coinvolgendo tutte e quattro le province e alla fine la sintesi dei danni è stata trasmessa da noi al Ministero. Poi l'attività ha pagato, in particolar modo io parlo per il mio comune, che il primo stanziamento è di 7 milioni e mezzo rispetto a quelli degli altri che erano molto bassi, ad eccezione di Raiano. E comunque i risultati pagano perché oggi avremmo superato i 24-25 milioni in un paese di 300 anime. E il nostro è stato un sano civismo a Onda Tg, il responsabile regionale di azione politica, Gianluca Zelli, tira le somme della campagna elettorale. Tiriamo le somme di questa campagna elettorale, tutt'altro che tranquilla, anche e non solo per il centrodestra, abbiamo il responsabile regionale di azione politica, Gianluca Zelli. Allora, che tipo di campagna elettorale è stata? Bella, è stata una bellissima campagna elettorale, alla fine a differenza di quello che si poteva pensare il tempo, non il tempo, la neve, insomma è stata una campagna elettorale molto partecipata. Noi abbiamo trovato tante persone, tanta gente nei nostri eventi pronti ad ascoltare, ad ascoltare le nostre proposte e i nostri programmi. Quindi siamo stati contentissimi, abbiamo girato molto e quindi stasera, insomma, fino a questa sera saremo in giro per i paesi e per le città di questa regione. Ecco, avete scelto uomini, donne, più o meno impegnati, non solo nella vita politica ma anche nella vita sociale, no? Dei singoli comunità. Questo quanto conta e che tipo di garanzia può dare all'elettorale? Sì, sì, esattamente. Noi abbiamo iniziato il nostro percorso il 14 dicembre del 2017, lì abbiamo fatto la prima convention dove abbiamo detto iniziamo, torniamo nei territori ad ascoltare i cittadini e scriviamo il programma insieme a loro. Lo abbiamo fatto e sulla base di quel programma poi abbiamo scelto anche i candidati che lo potessero rappresentare, quindi abbiamo scelto gli amministratori locali perché secondo noi c'è bisogno di un rinnovamento, ma un rinnovamento competente e quindi abbiamo scelto amministratori locali preparati e abbiamo scelto professionisti, quindi chi non amministra nel pubblico amministra chiaramente aziende piuttosto che insomma professionisti. E questi sono oggi i nostri candidati, quindi un programma scritto con gli elettori e i candidati che vengono dai territori, soprattutto nessuno che sia già mai stato in regione, quindi un rinnovamento ma competente. Tu vuoi parlare in questo caso e per chiudere di un sano civismo piuttosto invece del civismo camuffato che anche quello è stato protagonista di questa tornata elettorale? Sì sì assolutamente, noi siamo, io dico sempre dal primo giorno della campagna elettorale bisogna avere rispetto per il civismo, noi siamo un movimento civico che vive da due anni, abbiamo fatto la nostra propaganda per andare a cercare il programma e soprattutto abbiamo raccolto 7.000 firme per partecipare a questa competizione elettorale. Io vorrei vedere dove sono tutte queste civiche, visto che siamo gli unici che hanno portato le firme alle corti d'appello, quindi insomma i bleffi si scoprono poi a lungo andare e soprattutto bisogna ripeto avere rispetto per le persone e per chi veramente del civismo ha fatto la propria fede elettorale. Siamo alle battute finali di una campagna elettorale intensa, faticosa ma bellissima, mi avete dato la carica ogni giorno facendomi superare anche una brutta influenza e un dito rotto, è un Giuseppe Di Pangrazio che mostra la sua umanità, quello che chiude la tornata elettorale prima del voto di domenica 10 febbraio. Il Presidente del Consiglio regionale uscente ha voluto salutare gli elettori con un comizio online tenuto in diretta sulla rete sociale di Facebook, una scelta che è apparsa subito singolare. Dopo aver girato piazze e quartieri e aver mantenuto il contatto con l'agente di Pangrazio ha scelto il web per l'ultimo colpo della campagna elettorale. Dall'esclusiva con il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, alle nove domande per i candidati alla Presidenza della Regione Abruzzo. Questa sera nello speciale elezioni Onda di Giri avvolge il nastro di questa campagna elettorale sui generis. Il nostro servizio. Prima l'intervista in esclusiva al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha fatto parlare anche la cronaca nazionale per quel non inconsapevole al candidato Presidente Marsilio. Poi la risposta strappata al Vice Premier Matteo Salvini sul mantenimento dei presidi giudiziari, anche quella trasmessa dai Tg nazionali. E ancora dirette interviste sul campo fino ad arrivare all'intervista quadruple quattro candidati Presidente della Regione Abruzzo. Una formula diversa e meno formale. Abbiamo posto nove domande che rende quattro candidati di dare un voto alla campagna elettorale, di definire l'Abruzzo con una parola o aggettivo, di svelare il più grande sogno per l'Abruzzo ma anche il più grande rimpianto per finire con l'appello al voto in 18 secondi. Al momento solo in due si sono cimentati nell'intervista Stefano Flaiani di Casa Pound e Giovanni Lennini del centro-sinistra. Ma prima della mezzanotte arriveranno anche le interviste degli altri due candidati, Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle e Marco Marsilio del centro-destra. Intanto questa sera ondata di giri avvolge il nastro di una campagna elettorale tutt'altro che tranquilla che ha visto la passerella dei big, i bani di folla in piazza, l'odio e il rancore sui social, lo scontro dentro le coalizioni, il tuffo nel passato e nella storia. Noi abbiamo cercato di mantenere i piedi per terra. Per questo, questa sera, cercheremo di analizzare i tratti salienti di questa campagna elettorale in compagnia di due colleghi, il giornalista Ennio Bellucci, il direttore di ZAC7 e Chiara Buccini. Appuntamento alle ore 21.30. Lo speciale elezioni sarà trasmesso in diretta live anche su Facebook. Siamo stati protagonisti in campo nazionale e vogliamo rimanere fino alla fine sulla cresta dell'onda di Onda TV. E ora la cronaca. Il figlio scoppia un petardo, lui aggredisce il poliziotto commerciante, finisce ai domiciliari un trentenne di Sulmona. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Aveva sferrato un pugno al poliziotto commerciante e poi si era dato alla fuga. Con l'accusa di lesioni gravi, un trentenne di Sulmona, FC, è stato arrestato, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si terrà molto probabilmente la prossima settimana. I fatti risalgono allo scorso 15 dicembre. Tutto è cominciato quando un bimbo di 11 anni, figlio del trentenne arrestato, è stato avvistato da commerciante mentre faceva scoppiare un petardo nella fioriera collocata di fronte alla sua attività commerciale. Fin qua tutto bene o quasi. L'esercente si avvicina al bambino per far notare che quel gesto non andava fatto. Poi si intrettiene a parlare con lui e il padre, da dietro, lo avrebbe aggredito, sferrando un violento pugno prima di darsi alla fuga. Il minore è stato quindi presso in custodia all'interno dell'esercizio commerciale prima dell'arrivo della madre che lo ha accompagnato a casa. Il trentenne inizialmente si era giustificato sostenendo che il commerciante aveva preso una rincorsa verso il figlio, come se volesse alzare le mani, poi fatto sedere per terra e sequestrato nell'attività. Nulla di tutto questo per la vittima che aveva fatto notare a un datc che sul posto c'erano almeno una decina di persone che avevano visto la scena. Il bimbo lo avrebbe invitato anche a fare a botte, ma quando si è avvicinato per improverarlo il padre lo ha colpito alle spalle per poi darsi alla fuga. Il commerciante poliziotto ha rimediato 40 giorni di prognosi, quanto basta per far scattare una denuncia d'ufficio. È stato poi sottoposto a un intervento al reparto maxillofacciale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Per lui non è stato proprio un ottimo Natale. Le indagini che sono scattate a seguito dell'intervento della squadra volante della Polizia hanno permesso a sostituto procuratore della Repubblica Stefano Iafolla di chiedere e ottenere dal giudice Billi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nessuna irregolarità riscontrata e la buona sanità balza agli onori delle cronache. L'ospedale di Sumone e suo pronto soccorso si salva dal blitz effettuato nelle scorse settimane dei NAS di Pescara, proprio negli ospedali della regione Abruzzo. In seguito al picco influenzale i militari hanno passato al setaccio i presidi sanitari in modo particolare pronto soccorso proprio per verificare anomalie, carenze igienico-sanitarie e l'indice di sovraffollamento. Nulla di tutto questo per l'ospedale di Sumona dove non sono state riscontrate irregolarità. Rifiuti ovunque in via Palazzo, fra Prato Lapelini e Rocca Casale, quando al degrado non c'è mai fine, è proprio il caso di dirlo. Vediamo. Il degrado trova casa in via Palazzo. La stradina colleghe comuni di Prato Lapelini e Rocca Casale viene frequentata soprattutto dagli amanti della natura e delle camminate, ma la scena che si è presentata nell'ultimo periodo sotto gli occhi dei cittadini è quanto mai raccapricciante. Busta di plastica, lattine, cartone, utensili di vario genere. Tutti rifiuti lasciati lungo la strada alla faccia della differenziata del buonsenso. Un'immagine che stride con quella parte del territorio peligno che ha messo in pratica la raccolta domiciliare porta a porta. Su quella strada più volte ci è capitato di vedere rifiuti abbandonati. Abbiamo segnalato il caso agli organi preposti, ma nessuno fa nulla, raccontano alcuni cittadini che si sono armati di smartphone tanto da immortalare il degrado. La strada ricade nel comune di Rocca Casale, ma non è questione di geografia comunale. È un fatto di buonsenso, di rispetto per l'ambiente. Questi sconosciuti. Nelle scorse settimane erano a scattare due sanzioni a due uomini, colti in flagranza dai carabinieri forestali, mentre lasciavano in custodi di rifiuti località La Fonte e Rocca Casale. Non erano residenti del posto, ma comunque sono stati multati. L'importo complessivo delle sanzioni ammontava 1.200 euro. I controlli proseguono a tappeto, con la speranza però che gli incivili decidano di desistere per il bene della collettività. Sosta gratuita nei parcheggi di Santa Chiara, il cartellone degli eventi, la Pasqua sulmonese si arricchisce di novità. Il comune di Sulmona già sta scaldando i motori. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Il comune scalda i motori per preparare gli eventi pasquali e lo fa con largo anticipo. L'ora di sosta gratuita nei parcheggi di Santa Chiara, sperimentata con successo nel corso delle festività natalizie, sarà riproposta anche nel periodo pasquale. Altra novità riguarda un cartellone degli eventi che il comune sta predisponendo, chiamando a raccolta la popolazione. In virtù dell'esito positivo riscontrato in occasione delle scorse festività natalizie, anche nel periodo pasquale, precisamente dal 18 al 28 aprile 2019, delle 9 alle 20 sarà gratuita la prima ora di sosta all'interno del parcheggio coperto di Santa Chiara, mentre le altre serveranno la tariffa prevista. Si tratta di un provvedimento rottato ieri, con delibera di giunto, al fine di ripetere un esperimento che è stato molto apprezzato, atteso ad agevolare numerosi turisti che visiteranno la nostra città in occasione degli eventi culturali e dei riti secolari della Pasqua sulmonese, fa sapere l'assessore Mariani. È un modo questo per favorire l'afflusso dei cittadini e visitatori nel centro storico, agevolando gli acquisti, migliorando viabilità e ricerca di posti auto. Anche in questa occasione non sarà necessario esibire scontrini o ticket. Voglio ringraziare gli uffici del secondo settore per il celere lavoro svolto. L'assessore Comunale della Cultura, Alessandro Benjivenga, fa sapere invece che sempre dal 18 al 28 aprile il Comune intende predisporre il cartellone degli eventi pasquali, da qui la chiamata raccolta alle associazioni. Chi fosse interessato può presentare domanda entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019 e con le seguenti modalità di recapito postale via PEC, l'indirizzo protocollo chiocciolapec.comune.sulmona.acu.it o mediante consegne a mano all'ufficio protocollo sito in via Mazzara numero 21 fa sapere l'assessore. Una buona novità considerando che proprio nel periodo pasquale Sumona si apre al mondo come una grande vetrina per le tradizioni legate alla settimana santa, come la processione del Cristo morto, dell'arci confraternita della Santissima Trinità e la rappresentazione della Madonna che scappa della confraternia di Santa Maria di Loreto. Da Palazzo San Francesco premono quindi l'acceleratore tenendo conto che per Pasqua dovrebbe essere fruibile anche la rinnovata aria camper, come a dire che l'amministrazione c'è nonostante la crisi esplosa qualche giorno fa che pone comunque delle domande, ad esempio che cosa succederà l'11 febbraio o se questa amministrazione arriverà a Pasqua. Ma questa è un'altra storia perché un cartellone degli eventi pasquali nessun altro, almeno negli ultimi tempi, lo aveva tirato fuori. E ora l'atteso momento della buona notizia del giorno. Scanno avrà l'eliporto, meglio tardi che mai, verrebbe da dire. Fatto sta che la giunta regionale, nell'ultima seduta utile prima dello scioglimento naturale, ha concesso un finanziamento di 200 mila euro per la realizzazione dell'opera. La piazzola per l'atterraggio degli elicotteri, con annessa struttura destinata a centro direzionale per la protezione civile, esorgerà nei pressi del palazzetto dello sport in Viale degli Alpini. Un'area strategica posta in ridosso del centro cittadino a pochi metri dal distretto sanitario di base. Il finanziamento prevede inoltre la realizzazione di uno stradello di servizio per il collegamento tra il parcheggio coperto e il quartiere Castellaro, che oggi non è raggiungibile dei mezzi di soccorso. Riteniamo che la realizzazione dell'eliporto e del centro direzionale di protezione civile, ha commentato il sindaco Giovanni Mastro Giovanni, saranno utili non solo per Scanno, ma per l'intera valle del Sagittario. Con queste infrastrutture migliorerà notevolmente non solo la gestione dell'emergenza di protezione civile, ma anche di quelle sanitarie. Sarà dunque assicurato un elevato standard di sicurezza per territori geograficamente marginali come il nostro, difficilmente raggiungibili. Con questo intervento comincia a prendere forma la strategia impostata dalla giovane amministrazione comunale che mira ad assicurare servizi di qualità per gli abitanti della montagna e dell'Abruzzo interno. L'obiettivo è quello di colmare il divario esistente rispetto agli altri cittadini abruzzesi che vivono in zone della regione dove sono assicurate condizioni decisamente più agevoli. Seguendo questa strada, aggiunto il primo cittadino e nel contempo promuovendo politiche che favoriscano opportunità di lavoro, si può provare ad arrestare, per quanto possibile, il processo di spopolamento in atto e ridare slancio al territorio. Tutte queste motivazioni hanno trovato la condivisione e la sensibilità dell'esecutivo regionale che ha ritenuto rifinanziare l'opera. Lo sport scherma dal 1 al 3 marzo e il palasport dell'incoronata ospiterà il campionato italiano a squadre Under 14. Ce ne parla nel servizio Domenico Berlingeri. La città di Sulmona si prepara ad ospitare la finale del campionato italiano di scherma squadre Under 14 denominato Grand Prix Kinder più Sport che si svolgerà dal 1 al 3 marzo. Con una delibera della giunta comunale è stato concesso l'uso del palasport Nicola Serafini che sarà la location dell'importante manifestazione. Si tratta dell'unica tappa in Italia che verrà organizzata dalla locale società della Gymnasium Schermaclub. Sarà un weekend all'insegna dello sport, afferma il vice sindaco Nicola Angelucci, in cui i protagonisti saranno i giovani. Si tratta di un evento sportivo importante che secondo le stime della Federazione Italiana condurrà in città 1500 atleti da tutta Italia insieme a tecnici, dirigenti e accompagnatori i quali potranno visitare le bellezze storico-culturali ed apprezzare le tipicità enogastronomiche vanto del nostro territorio. Una buona opportunità in sostanza per far conoscere Sulmona il suo comprensorio. E già in moto la macchina organizzativa per la promozione turistica in occasione della manifestazione sportiva. L'evento, conclude Angelucci, verrà presentato nei prossimi giorni in una conferenza stampa congiunta in cui verranno forniti tutti i dettagli da parte degli organizzatori. Sulmona Futsal siamo arrivati alla vigilia dello scontro al vertice. Domani al Palasporte dell'Incoronata ci sarà l'attesa sfida tra il Sulmona Futsal e la capolista Nobel Boys di Montesilvano, valida per la quarta di ritorno del girone A della Serie C2. L'obiettivo della squadra di Benjamin Fonte è quello di riprendere il primo posto che è stato perso lo scorso sabato dopo la sconfitta Silvi contro la Dinamo Faras per 5-3. I sulmonesi non giocano in casa dallo scorso 15 dicembre quando ci fu il successo per 3-1 contro l'Aquila Centro Storico. Dopo quella partita ci sono state infatti quattro trasferte consecutive che hanno visto però il Sulmona ottenere solo quattro punti in virtù di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. L'intento è ora quello di riprendere la marcia vincente sul proprio campo. Il lavoro in settimana è stato incentrato sia dal punto di vista tecnico che mentale perché da parte di tutti deve esserci la convinzione di voler far bene in quanto domani il Sulmona Futsal si gioca una fetta importante del campionato. I biancorossi indietro di due lunghezze dalla squadra di Montesilvano con il successo supererebbero in classifica proprio la Nobel Boys per continuare a lottare per la prima posizione. Se dovesse finire invece diversamente la situazione diventerebbe complicata. Di fronte ci saranno le squadre con il quarto miglior attacco del girone per aver totalizzato entrambe 54 reti. In evidenza principalmente Giuseppe Veneziale del Sulmona Futsal e Raldi Agogli della Nobel Boys, sesti nella classifica cannonieri con 13 reti ma ci sono anche Orlando Ginnetti tra i peligni e Manuel Aranghelli tra gli Adriatici con 10 marcature a testa. Tutti pronti per l'atteso match con l'auspicio della società dell'ASD Sulmona Futsal che possano essere in tanti a sostenere la squadra in questo momento importante della stagione. Per questa ragione viene promossa per domani la giornata biancorossa di ingresso libero al fine di avvicinare più gente possibile attorno a questa realtà che sta dando il massimo per tentare la scalata in Serie C1. Calcio d'inizio alle 15 al palazzetto dello sport Nicola Serafini. Arbitrerà Giovanni di Nicola dell'Aquila. Prima dei commenti sui social un assaggio di quella che sarà l'intervista quadrupla. I candidati alla presidenza della regione Abruzzo al momento in due hanno risposto al nostro appello ma c'è tempo fino a mezzanotte. Nome? Giovanni. Stefano Cleiani. Il tuo più grande sogno? Che nessun giovane abruzzese sarà costretto a lasciare la nostra regione per andare a lavorare fuori. Rendere l'Abruzzo un piccolo paradiso in terra. Il tuo più grande rimpianto? L'impianto l'avrei avuto ove non mi fossi candidato. Non essere entrato in Casa Pound prima. Dai un voto alla tua campagna elettorale. Nove? Impegno e passione dieci. Dai un voto alla campagna elettorale dei tuoi avversari. Non pervenuti perché la campagna elettorale l'hanno fatto i loro ministri, i loro leader, si sono visti pochi. Per quando ci hanno speso dieci. Definisci l'Abruzzo con una parola o un aggettivo. Resiliente. Regno. Come dovrà essere l'Abruzzo l'11 febbraio? Sempre con una parola o un aggettivo. Affidabile. Ancora più fregni. Quale immagine ti resta di questa campagna elettorale? L'immagine dei ragazzi affetti da autismo. Ho visitato un centro, sono rimasto molto colpito dalla cura, dalla dedizione degli operatori, dalla partecipazione delle famiglie, dal mondo di questi splendidi ragazzi. I piloni dei viadotti e delle autostrade. In 18 secondi l'appello al voto. Votate Legnini Presidente, votate le liste, una delle liste a sostegno, otto liste, una coalizione ampia, plurale, espressione della società civile abruzzese, desiderosa di animare una stagione di ripresa, di riscatto per la nostra regione. Volete votare per cambiare tutto affinché nulla cambi? Votate gli altri tre indistintamente, perché tanto sono la stessa cosa. Mandatele i combattenti di Casa Pound, a fianco dei cittadini, votate noi. Chiudiamo con lo dico al Tg, domande e segnalazioni, curiosità sulle notizie del giorno e non solo, che peschiamo dalla pagina Facebook di Onda TV con la diretta live di Onda Tg. Quindi vediamo quali sono stati i principali commenti che hanno segnato questa edizione, molto ovviamente concentrati proprio sulla politica, perché siamo al ranch finale di questa campagna elettorale. Anche Di Maio si sta adeguando i politici, per il resto dicono che è Donedì al lavoro, ma se finanziano la disoccupazione. Vedete molta attenzione su questi temi, le immagini fatte da Onda TV su Salvini sono apparse anche al Tg5. Complimenti per il servizio, siete ovviamente troppo generosi. Poi ancora molti sono rimasti strabiliati dall'esclusiva di Onda TV a Silvio Berlusconi. Arrivano molti complimenti per voi anche dall'estero, grazie alla vostra diretta su Facebook. Quindi si parla ancora, come vedete, di quella famosa intervista. E poi un commento che è arrivato proprio adesso sui fondi per la mascherina e il carnevale. A nessuno interessa i bambini? Ci scrivono. Quindi una domanda che si pongono i nostri utenti sui social. Continuate a scriverci sui social. Io vi ricordo, dopo di noi, Abruzzo Notizie, il punto. Alle 21, gli ultimi appuntamenti elettorali. Alle 21.30 non perdete lo speciale elezioni perché riavvolgeremo il nastro della campagna elettorale con il giornalista Emilio Bellucci e con il direttore di Zaxette Chiara Buccini. Le interviste, le dirette, i big che sono passati. Insomma, faremo un po' il rewind. 21.30 Onda TV. Bene, davvero tutto per questa edizione. Onda Digi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti una buona serata.